di duetti l'anno scorso e io ho accettato con grande piacere perché comunque è un compositore, un cantautore che ricordo nei primi anni 80 quando io lo senti per la prima volta, mi ricordo anche quando, ero in autostrada sulla A14 che stava andando verso il sud, più o meno all'altezza di Rimini e per radio senti un brano e dissi ma chi è questo ragazzo qua? Mi aveva colpito, a parte la sua vocalità, ma parlava, il tema di cui parlava era qualcosa di molto comune dove tutti ci possiamo ritrovare, ma per me parlava con una grandissima semplicità, profondità e anche con tanta poesia, manifestava un animo delicatissimo che coglieva degli aspetti che dicevo, caspita, un ragazzo che coglie questi aspetti è curioso. Poi appunto è capitata questa cosa di Farfallina, mi è fatto molto piacere partecipare, abbiamo cantato insieme a Milano, un studio di registrazione e lì l'ho potuto anche conoscere un poco di più perché sì, forse ci eravamo incrociati qua e là, ma mai in maniera concreta. E quindi quando abbiamo pensato di inserire da lontano in questo progetto, da lontano la canzone è un dialogo, il testo è un dialogo, per cui è stato naturale pensare a lui.